Siamo quasi alla conclusione della seconda giornata di Shabbaka che è giunta al terzo anno, una manifestazione organizzata da Rubettino a Soveria Mannelli per tendere questa rete di rapporti e relazioni nel Mediterraneo e nell'intera nazione. Abbiamo appena ascoltato la lezione del professor Pellicani sulla libertà dell'Occidente e i confronti con l'Oriente. Continuiamo questa sera e domani la giornata conclusiva. Grazie 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 Grazie